Taglia il traguardo della decima edizione l'evento ottobrino della Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Associazione Provinciale Catania, delegazione di Belpasso, a scacciata per scacciare il cancro, che si pone l'obiettivo della raccolta di fondi in sostegno delle attività della Lilt, che beneficia del patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana e del Comune di Belpasso, nonché della collaborazione della Proloco Belpassese e del gruppo scout a Gesci Belpasso 1. L'appuntamento è per la domenica 8 ottobre alle ore 20, presso il giardino Martoglio di Belpasso, dove con un piccolo contributo si potrà degustare una fetta di scacciata siciliana con verdure di stagione o la zuppa di ceci. L'evento, condotto da Anna Giarratana, riproporrà lo schema consolidatosi in questo decennio di attività, ovvero l'alternarsi di interventi su salute e prevenzione, con particolar riguardo alle neoplasie e momenti di spettacolo. Interverranno la dottoressa Aurora Scalisi, presidente della Lilt di Catania, e il dottor Roberto Bordonaro, direttore dell'oncologia medica dell'Arnas Garibaldinesima di Catania. Lo show vedrà le esibizioni del duo comico Toti e Totino, dell'associazione culturale Danzando l'Ottocento, e della band Oneshot 80, che proporrà brani musicali degli anni Ottanta, portati al successo da donne, musiciste e cantanti. Al pubblico presente verranno donati gadget realizzati dai ragazzi dell'associazione culturale La Bottega dell'Arte. Tagliamo il traguardo della decima edizione di questa nostra iniziativa autunnale, che ci permette di parlare di prevenzione in un contesto leggero, fra degustazioni e momenti di spettacolo, ha dichiarato il presidente della Lilt Catania, Aurora Scalisi. Sarà l'occasione per ribadire il concetto che sta alla base della lotta contro i tumori. La prevenzione è l'arma più efficace per sconfiggere il cancro. Aggiunge il responsabile della delegazione Lilt di Belpasso, Gino Asero. Per i belpassesi, a scacciata per scacciare il cancro, è diventato un evento irrinunciabile. Per noi volontari è l'evento più importante in ambito locale, che ci consente di sostenere tante altre iniziative, anche di prevenzione secondaria, come visite specialistiche ed esami strumentali gratuiti. E le tante adesioni alle nostre campagne di prevenzione oncologica, sono la dimostrazione del fatto che i belpassesi sono consapevoli dell'importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori.